Ben trovati a Varese in Rosa, il nostro salotto femminile in cui oggi continuiamo a parlare di cultura. Lo facciamo invitando la presidente del Centro Arte e Cultura Bustese, Maria Cristina Limido. Benvenuta. Buongiorno, ben trovata. Senti, innanzitutto c'è un evento prossimo, molto grande per il CAB, lo chiamiamo tutti così affettuosamente in città, che si svolge nella terra di mezzo, passatemi l'espressione, nel senso che è organizzato sia dagli artisti bustesi sia da quelli legnanesi e l'ho fatta a Castellanza, se ho capito bene. Sì, lo facciamo a Castellanza a Villa Pomini. Ecco, come si intitola, se non sbaglio, SCOSSA? Sì, il titolo è SCOSSA ed è un acronimo che comprende una serie di sottotemi che riguardano l'ambiente. Ce li vuole svelare? Sì, ho qui, siccome sono tanti i vocaboli, citerò qualcuno, però ad esempio la S di SCOSSA, la prima è Sostenibilità Smaltimento, il secondo Clima, il terzo OGM, il quarto Sicurezza Smog, la seconda S specie in pericolo e l'ultima A, Acqua Alimentazione Agricoltura. Come mai avete scelto un filo verde per unire i vostri lavori? Abbiamo scelto questo tema perché è un tema molto sentito, molto attuale, soprattutto dalle giovani generazioni e quindi abbiamo voluto metterci un po' in gioco e sviluppare delle opere che facciano riflettere. Ecco, ma ci sono poi tanti giovani tra le vostre fila oppure l'arte ormai è un po' più una nicchia per una certa età, come si diceva una volta? Il rischio è un po' questo, diciamo, però noi abbiamo la fortuna di avere anche dei corsi che sono frequentati anche da giovani allievi e quindi ci riteniamo un po' fortunati e poi promuoviamo anche delle visite guidate per le scuole. Ecco, dei corsi poi parleremo, ma intanto, se non ricordo male, comunque avete raggruppato tanti artisti perché siete 73, giusto? Sì, sono 73 lavori, ma alcuni sono lavori collettivi per cui gli artisti sono circa un'ottantina in totale. Beh, direi insomma comunque un gran bel risultato. Vogliamo ricordare gli estremi, cioè da quando a quando, in che orari si potrà vedere questa mostra? Sì, volentieri. La mostra verrà inaugurata sabato 23 settembre alle ore 17 con l'intervento dell'assessore Tarlazzi di Castellanza e dei presidenti e anche un intrattenimento musicale della scuola Paganini. Si protrarrà per tre settimane per i tre weekend in cui sarà aperta la villa, però avremo anche degli interventi i giovedì sera per approfondire i temi con una conferenza, con uno spettacolo, una pièce teatrale. Bene, quindi naturalmente noi invitiamo tutte le nostre telespettatrici, i nostri telespettatori ad andarla a vedere, ma soprattutto le invitiamo a sperimentare l'arte. Vedo per esempio una bellissima collana della Presidente che secondo me è un fai da te. Sì, esatto, è un lavoro... mi diverto, ecco, diciamo che mi diverto e uso materiale tutti di riciclo, sono maglioni, sono calze, possono essere indumenti o coperte e poi li lavoro proprio in tema con il discorso della mostra. Stavo proprio pensando a questo, torniamo nella tematica green che come dicevamo prima interessa non solo, ma soprattutto i giovani e i giovani quindi sono interessati, mi è parso di capire, quantomeno ai corsi di avvicinamento, diciamo così, all'arte? Sì, abbiamo degli allievi che frequentano per esempio liceo artistico. Io ho avuto degli allievi anche delle medie e adesso abbiamo un corso propedeutico proprio anche per i bambini di pomeriggio, ma diciamo abbiamo avuto tutte l'età, anche fino agli 80 e passa anni, però quello che cerchiamo di fare è di attirare più giovani possibili. Che tipo di corsi? Pittura, scultura? Abbiamo una gamma molto vasta di corsi che vanno dal disegno alla pittura declinata in tutte le sue tecniche, diciamo, e poi abbiamo la ceramica, abbiamo la vetrata artistica, l'intarsio lineo, abbiamo l'arte alternativa, abbiamo anche dei corsi di scrittura, di scrittura propedeutici e un corso proprio sul romanzo del racconto. E ai bambini che cosa fate fare? I bambini, diciamo, che è una specie di, tra virgolette, dopo scuola, una, diciamo, una palestra di introduzione all'arte, dove ci sarà un docente che è specializzato proprio nell'insegnare arte ai ragazzi, ai bambini. E questo è una novità, magari diciamolo, dove si terrà? Si terranno nella nostra sede che è a Busto, nel plesso delle scuole bossi, nel cortile. E quindi le scuole bossi sono vicino alle poste centrali e noi siamo al primo piano. Beh, questo, insomma, è interessante come prospettiva perché sicuramente qualcosa di nuovo. Ma io mi domandavo, mentre parlavo, ma c'è qualche arte che, dalla vostra esperienza, è più prettamente femminile, qualche altra più prettamente maschile o l'arte non a genere? Guardi, io mi sento proprio di dire, io faccio arte tessile, no? Quindi che è prerogativa femminile, no? Però devo dire che ci sono degli artisti uomini bravissimi anche in questo campo, per cui l'arte è davvero per tutti. E per quanto riguarda l'età? Per l'età è chiaro che, diciamo, c'è un target di persone che lasciando magari il lavoro hanno più tempo e quindi si dedicano a quello che magari durante la vita non sono riusciti a coltivare. Però siccome i nostri corsi sono serali c'è tanta gente che lavora tanti anche ragazzi. Ecco, anche in questo caso i ragazzi hanno una propensione particolare per qualche tipo specifico di forma d'arte oppure è trasversale? I ragazzi sperimentano, vogliono proprio sperimentare, quindi magari partono con la pittura, ma poi arrivano al materico, passano alla terza dimensione, cioè sono molto, molto creativi. Per chi non lo sapesse il CAB esiste dal 1977, allora mi domandavo come è cambiata la percezione dell'arte nella società, in particolare ovviamente nella società bustese, dal vostro osservatorio privilegiato? Ma diciamo che l'arte una volta era considerata un po' di nicchia, no? Quindi i pittori erano pochi, pochi e molto conosciuti e tra cui ci sono i nostri padri fondatori, no? Vogliamo ricordarli magari? Sì, ad esempio Rocco Preite che è mancato da poco, Silvio Crespi che parteciperà con un'opera bellissima a questa mostra, Beluffi, insomma erano un bel gruppo, Albarelli che è stato presidente per tanti anni ed è ancora nostro socio e diciamo era un po' patrimonio di poche persone. Poi lentamente diciamo più persone, forse anche con il fatto che le persone hanno orari diversi nel lavoro e quindi riescono a ritagliarsi un po' il tempo, è proprio emersa questa voglia di fare, di fare arte. E anche forse il fatto che la terza età è sempre più attiva, no? Per fortuna e quindi insomma dicevamo ci sono magari tante persone, non so, mi dica lei se più maschi o più femmine in questo caso, che finita la vita lavorativa riscoprono quello che magari per tanti anni è stato un hobby messo nel cassetto. Nel cassetto sì, diciamo che sono in maggioranza sono donne, donne che hanno passato la vita tra i figli e il lavoro e che quindi adesso finalmente quando arrivano in pensione si dedicano un po' a se stesse. Io non osavo dirlo ma lo immaginavo che sarebbe stato così insomma, però naturalmente l'arte come dicevamo prima, insomma non a genere e quindi se anche ci fossero degli uomini all'ascolto che fossero interessati a questi corsi non serve essere per forza di bustarsi essere della zona, diciamo così sicuramente aiuta per frequentarli, insomma tante sono le opportunità e mi piace ricordarlo perché spesso ci troviamo a parlare anche in questa trasmissione appunto dell'invecchiamento attivo e sicuramente l'arte che come abbiamo sentito non è più elitaria come quando il CAB ha iniziato la sua attività ma ormai è davvero per tutti, è un modo molto intelligente per investire il proprio tempo e mantenersi sempre con una passione che ci tiene vivi giusto? Certo, certo è così e poi diciamo che noi abbiamo questo fatto dei corsi perché la nostra missione proprio contenuta dallo statuto è di far crescere i corsisti attraverso un percorso per poi farli diventare artisti e quindi è quello che stiamo facendo con successo devo dire. Magari appunto vedendoli in una mostra come Scossa che abbiamo detto potrete vedere col suo filo green, filo verde a Villa Pomini a Castellanza. Con questo io ringrazio la nostra ospite, tutti voi che ci avete seguito, Varese in Rosa torna come sempre settimana prossima stessa ora, stessa rete. Arrivederci!